Si chiama Andrea Tozza e il 13enne Billy Elliot di Barriera che si è conquistato un posto nell'Accademia della Scala, la più ambita e rinomata accademia da cui sono passate molte star della danza internazionale. Una conquista importante ma non priva di difficoltà a cominciare dalle battute dei compagni di scuola che lo prendevano in giro per la sua passione. Il suo maestro Stefano Muià ricorda il primo incontro, quando l'ho visto per la prima volta ho pensato che fosse della creta da modellare. Non era né carne né pesce ma si vedeva che aveva enorme potenzialità. E parlando del giovane Andrea ricorda che il passaggio delle audizioni non deve trarre in inganno. Le salite sono appena iniziate per lui. Intanto questa storia dai tratti quasi cinematografici ha il sapore della rivincita come si intuisce anche dalle parole di Roberta Ramazzina, la direttrice della scuola di ballo dove Andrea ha mosso i suoi primi passi. facciamo il tifo per lui perché per noi che siamo una scuola nata pochi anni fa in una periferia in cerca di rilancio è anche il simbolo che lottando e stringendo i denti i sogni si possono realizzare.